secondo giorno di bicicletta oggi scendiamo al crocus dove sta? dove sta? dove sta? avevo visto che tu mi siano spiega da una pista da più veloce da più veloce da più veloce da più veloce grazie 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 eccoci sulla via di Martina qui sta via Cavorciano via Castelnuovo via San Pio ora si e qui c'è il crocus qui e qui ci sono Grazie.